Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente oggi parliamo di Ederson che stamattina ha salutato la Salernitana con un post su Instagram e ormai è in direzione Bergamo. Giocatore secondo me importantissimo, giocatore di cui io sono strafelice, ma prima di andare a perderci nei meandri dell'analisi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivate se volete la campanellina per ricevere le notifiche e ovviamente dopo. Per aver visto il video in commento, così parliamo un po' dell'acquisto e di che cosa ne pensate. Ora, io sono contentissimo per questo acquisto perché secondo me è un giocatore che ci sta benissimo in questa squadra. Ederson ha delle caratteristiche che non sono trovabili in nessun giocatore dell'Atalanta. È una sottospecie di mietitrebbia, è un aratro, è qualcosa che passa e porta via tutto. Grandi capacità difensive perché come strappe e palloni, quello amo lì, io ne ho visti pochi. Buonissime capacità offensive perché di testa, col tiro da fuori, serpentine, insomma ha una serie di carte da spendere. Ma soprattutto la cosa che mi piace di più è che è un giocatore molto, molto forte in transizione. Palla al piede, questo prende, va e non lo fermi più come un trattore. Non è velocissimo ma, ma sicuro, che palla al piede, questo parte e ora che lo tiri giù lo devi placare. Ed è esattamente quello che ci serve perché abbiamo avuto per anni un centrocampo dove l'unico a fare legna era Deron che però ha una impostazione molto difensiva. E quindi quella diga che porta avanti un po' il pallone, che ti fa salire quei 20 metri, c'è sempre mancata. Un acquisto dal genere, per quanto mi riguarda, offre tante, tante soluzioni, ma tante soluzioni che si sposano benissimo con la nostra idea di calcio. Perché poi lo sapete, all'Atalanta non basta comprare giocatori che siano buoni, ma servono giocatori che il mister sappia utilizzare. E questo giocatore, secondo me, va tranquillamente al caso nostro. Ovviamente liberare lo spazio a Ederson vuol dire che Deron andrà a fare il difensore, ma questo oramai lo sapevamo. E quindi avremo questo triangolo con Ederson che di volta in volta affiancherà Kupmeiner su Freud alla seconda della tipologia di partita che bisogna affrontare. Ci sarà una classica rotazione a tre. Qualcuno storce il naso per il prezzo, però anche lì, ragazzi, veniamoci incontro. Se si spende si è speso troppo, se non si spende siamo dei crostoni. Bisogna trovarla una via di mezzo ogni tanto nella vita, altrimenti saremo sempre, sempre, sempre scontenti. Io credo francamente che aver inserito Lovato sia stata un'operazione giusta, perché comunque è un buon giocatore, buonissimo giocatore, che poteva far parte della batteria, però non una perdita così devastante. Quindi onestamente sono contento della cosa. Bisognerà poi vedere le cifre bene, se magari poi qualcuno andrà in prestito per fare il piacere o quant'altro, però tutto sommato, secondo me, l'operazione è assolutamente soddisfacente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio dell'inserimento in squadra. Io credo che lui possa essere una colonna portante della Nuova Atalanta, quantomeno per un biennio, perché poi, secondo me, è un giocatore di quelli che, se rispetta le aspettative, scusate il gioco di parole, difficilmente riesce a tenere. In Brasile lo chiamano il predestinato, ma perché ha avuto una crescita esponenziale partita dopo partita. È un giocatore totale, può essere, secondo me, accostabile per certi aspetti, è quella tipologia di giocatori che non si vedono un po', i vari Gattuso, i vari Davids, però ha anche tanto, per esempio, del Kürtich, di quel giocatore che si butta avanti, poi un po' alla bene e meglio, un po' di ignoranza, comunque lui la prova e non guastano mai questi giocatori qua, né in un caso né nell'altro, bisognerà vedere come il mister lo vorrà stradare, però in entrambi i casi, secondo me, è un giocatore così serve sempre e fa sempre molto, molto, molto comodo. Quindi io davvero non ho nulla da recriminare, credo che sia un grandissimo acquisto e una grandissima operazione per l'Atalanta. Adesso non ci resta che attendere anche gli altri movimenti, perché Ederson è sicuramente un buon punto, però la squadra necessita di tanti altri uomini, per esempio, ragazzi, ieri si è fatto male Zappacosta, qualcuno dice due mesi, qualcuno dice quattro, sta di fatto che a questo punto gli esterni forse anche ne servono tre e diventa problematica la faccenda, Pinamonti gira e rigira, però bisognerebbe anche provare a chiuderla prima che scappi e poi ovviamente il discorso ancestrale oramai che ci portiamo dietro, mitologico, sulla tre quarti dove Illich pare che voglia restare, però magari ci facciamo un video a parte, io francamente non sono così disposto ad accettarlo, Miranciuk che deve trovare una collocazione, insomma tanti altri giocatori che devono in qualche modo andare a piazzarsi da qualche parte. Ad oggi comunque abbiamo un Demirani Scatappo e un Ederson che ripeto, secondo me, è un giocatore incredibile, è un giocatore che qualitativamente, se sta nelle aspettative, ma anche se sta leggermente sotto le aspettative, è un giocatore che dà una botta incredibile a questa squadra, in termini di tempo, in termini di foga, in termini anche di resistenza, quindi io personalmente davvero non vedo l'ora di vederlo in capo, però quello che si può dire è che l'Atalanta, con lucidità, sta spendendo i suoi soldi, perché le sta spendendo e sta costruendo una squadra che, domani, sembrerebbe bella lanciata per poter rientrare nel discorso Coppe Europea. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, vi lascio tutti i commenti, tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!